I detrattori questi giorni mi hanno tacciata di fare discorsi sensazionalistici, populisti di grande effetto mediatico ma poco realistici e partigiani, volti alla tutela della categoria professionale cui appartengo. Allora ho pensato che se le parole non sono bastate ci verranno in soccorso gli esempi. Scusate ma io vado sempre al concreto. Vi racconto un accadimento che ha lasciato il segno su di me e giudicherete voi dopo aver ascoltato se i miei sono slogan populisti. Tempo fa ho incontrato una famiglia, mamma casalinga, papà camionisti e due figli. Il minore lamentava un calo ponderale, febbre inspiegabile, un generale stato di malessere, declino costante delle forze fisiche ma soprattutto un importante dolore al ginocchio. I genitori portano il ragazzino al pronto soccorso di uno dei nosocomi della nostra regione lombarda, di quelli che non sono così illuminati e il medico in pronto soccorso non visita il paziente. Gli dedica pochissimi minuti dopo ore di attesa, lo tasta sommariamente sul ginocchio e poi conclude che il ragazzino, all'epoca ripeto dodicenne, non ha nulla, avrà preso stima una pallonata giocando a calcio all'oratorio. Prescrive quindi un analgesico e uscendo il ragazzino prende pure rimproveri dai genitori perché è un lavativo, non ha voglia di andare né a scuola né a giocare a calcio, non si impegna e per questo sarà presto in punizione. La questione si protrae febbre compresa, calo ponderale con persistente stanchezza ed il ragazzino torna al pronto soccorso con i genitori che iniziano ad essere preoccupati ma ex novo li rassicurano, il dodicenne sta bene. Due mesi dopo il ragazzino si sveglia con un ginocchio tumefatto, febbre molto alta e non regge il suo stesso peso sulle ginocchia. Tra l'altro è un ragazzino piuttosto minuto e a quel punto è evidente che la pallonata non c'entra più proprio nulla. I genitori si recano ex novo al pronto soccorso ed un nuovo sanitario domanda loro perché non fossero andati prima a fare visitare il ragazzino. Questo ragazzino soffre, all'epoca soffriva, di un tumore maligno, un cosiddetto sarcoma di Ewing, un tumore maligno molto raro che colpisce circa 100 persone l'anno. Il ragazzino presentava tutti i sintomi per allertare il medico che avrebbe dovuto approfondire le cause delle lamentele del paziente e non liquidarlo con una bella pacca sulla spalla. Bene, al ragazzino, ve la faccio breve, è stato amputato l'arto, mezza spanna sopra il ginocchio ed ora combatte per trovare faticosamente il suo posto nel mondo. Non ha ricevuto aiuto psicologico e molte sono state le criticità burocratiche che i suoi genitori hanno dovuto affrontare per ottenere una protesi che gli fosse consona e che è stata cambiata un certo numero di volte. Il medico legale, osservate le carte, ha ritenuto che il tumore in questione era oggettivamente aggressivo, ma se la patologia fosse stata correttamente individuata per tempo, il ragazzino avrebbe avuto speranza modesta, pari al 20%, forse al 30%, di non perdere l'arto. In sostanza, quel 20% è quello che gli avvocati chiamano la perdita di chance. In sostanza, sarebbe stato improbabile, ma non del tutto inverosimile, evitare l'amputazione e io, come i genitori, ci siamo domandati quanto valesse quella piccola speranza di non fare perdere la gamba ad un giovane ragazzino. Questi sono i casi con i quali io mi confronto ogni giorno. Vi sembrano populisti? Da questo accadimento di malpractice abbiamo in circolazione un disabile in più. Complimenti al medico. Motivo per il quale tanto ho a cuore le sofferenze di tutti coloro che sono stati privati della mobilità, della vista o dell'udito, ovvero di qualunque altra potenzialità corporea. Al camice in questione non è successo pressoché nulla, perché la causa non è stata possibile incardinarla. Le perdite di chance erano troppo bassi ed i criteri giuridici che governano la materia del risarcimento per danno sono ferree. Se non ci è scappato il morto o se non sei diventato portatore di un danno grave, il ristoro te lo scordi. Giudicate voi se la mia è una campagna elettorale populista o se invece è solo la voce di chi la sanità la vive ogni giorno ascoltando la sofferenza di cittadini delusi, grandemente arrabbiati, qui spesso è stato strappato fin anche un parente. Se ritenete che le mie non siano storie populiste o delle storie che parlano di chiacchiericcio, concedetemi la vostra preferenza. Scrivete Milano di fianco al simbolo di Forza Italia. Milano come la mia città, la città in cui vivo. Milano è il mio cognome e quindi sarà facile da ricordare. La sanità concreta per la politica al tuo servizio. Grazie a tutti.